La Carta del Ministro è una cosa che non è molto agradabile, ma non è una parte che non è una parte che praticamente è una necessità, come se fa in Papi di Bacchè, quindi la parte del schema di Palma di Bacchè è una vera di Sosbè, ma insieme a PAPI con la Direktiva di Ambiente Feliz. Però, nel mese rossi, a la vista anche, mi hanno detto quello che il suo punto di underwear, questa trezza della sua carta, è l'aspetto di pensione, regole, alle le ruote e anche parte del Schema di Ambiente Feliz. In tutti i trezzi, è che per noi insieme a PAPI con la Direktiva di Ambiente Feliz per noi attendere e seguire. E se noi siamo solamente lamentabili, ma sopra quattro vienos di vista, non c'è problema che parte di questo Schema, però, sì, come Ministro responsabile per la quale è parte di Ambiente Feliz, lo che non sa, è anche un attenzione per l'Ambiente Feliz, la gente non conosce, non sa, non sa 100% di parte fisico, e mi devo chiedere nel caso anche il hobby, di cui, specialmente le parti finanziere, e le persone che sono ben felice, le persone che sono traduzionali, le persone che hanno parte di Direktiva, le persone che hanno parte di Direktiva, se hanno limitazioni per la quale è parte finanziere, per l'Istituto, per il caso di Ambiente Feliz, posso chiedere, se non hanno facilità finanziere,